E benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, in questo video qua siamo su Brawl Stars Sto entrando dopo questo nuovo aggiornamento, dopo qualche settimana che non giocavo e vediamo insieme a voi Com'è questo aggiornamento, intanto accesso come... Scegli un brawler Scegli un brawler, sarà un brawler da sbloccare C'è essere il nuovo brawler Meg è un brawler che leggendo è uscito un po' poco fa, se me lo fa sbloccare, magari Scegli Ottieni dei crediti per sbloccare questo brawler, quindi partiremo con Leon Si ci sta, è un brawler che volevo da un sacco di tempo Ovviamente a fine video fatemi sapere cosa pensate di questo nuovo aggiornamento Intanto un braw talk, poi semmai vedremo insieme Un nuovo, questo potrei sbloccarlo ora a 699 gemme Leon a 350, eppure Meg a 699 O comunque sono questi punti che ora dovremmo capire un po' come averli Quindi ci sono anche i brawler cromatici che mi mancano Tra 20 giorni da quando sto registrando uscirà un nuovo brawler Proviamo un po' a capire, perché non credo che avevo robe arretrate No, né nel genere precedente, né di questa Intanto andiamo a riscattare tutto questo Intanto vedo un nuovo evento Ladri degli hotel delle nevi Se vi interessa ci avrò un video a parte E andiamo a vedere un attimo il negozio Premio dell'aggiornamento 740 di oro e 80 crediti che appunto da Leon Regalo per le feste Primo giorno da dei graffiti Altri graffiti E altri 90 crediti sempre per Leon Ovviamente hanno tolto le casse Ora vi farò vedere velocemente come hanno cambiato anche il pass Però hanno messo premio per 4 miliardi di eliminazione Beryl cassa Omega Ah, è una skin di Beryl C'è alta skin di Beryl vicina E poi queste icone del giocatore per il primo anniversario Secondo anniversario Terzo anniversario E quarto anniversario Anche 10 punti energia Il massimo l'avevo già visto da altri video È 4 mila Ovviamente poi devo decidere voi a che brawler dare Vediamo le notifiche Ok Stiamo vedendo se c'era qualcosa di nuovo da riscattare nel pass Comunque partiamo qua E vedete hanno messo queste Vabbè ora ci ho cliccato Hanno messo questi gettoni al posto delle casse E hanno messo tantissimi punti energia Anche questi gettoni un po' particolari Onestamente Questi sono 40 livello 17 Diremi voi che cosa sono Perché non ho idea di che cosa siano Sto un po' scorrendo Qua il pass E vedremo un attimo Allora Ebbè C'è stato questo nuovo brawler Che non avevo visto Buster Moto Sega Uso è superato il livello 70 Vi dando 25 gettoni 40 punti di energia 145 di oro E vediamo un attimo Uh hanno anche cambiato un po' Qua i brawler Beh ad esempio in questo caso Sono maxati Hanno un po' modificato Diciamo l'immagine E questi qua servono Ad esempio in questo caso 758 di Mi mancano 758 punti di energia 1875 di oro Vediamo un attimo una cosa Che ho visto da un video Vabbè Ottieni gemme Bisogna di 109 gemme Questa sua capa È partita dal livello 10 Quindi si possono potenziare Con le gemme Ovviamente mi scalerà Anche l'oro Se non ce la avete Vi costerà ancora Più gemme Vediamo un attimo Allora Potrei Potenziare Ma si dai Io potenzierei Jeannette Intanto c'è Pure questa bellissima skin Di Jeannette A livello 6 Oralmente stiamo andando Verso lo sbloccaggio di Leon E poi Sblocchiamo gli altri brawler Che ci manca Oltre a Leon Meg Chester Otis Sam Buster Che appunto è di questo pass E Quindi verso Inizio Del nuovo anno Quindi inizio di gennaio Uscirà questo Grey Nuovo Brawler Mazz Molto particolare Se a me però ci farà Molto di più Per maxare L'account Fatemi sapere Se avete un video Dove sblocco un po' Di equipaggiamenti Dove riprendo A giocare E datemi qualche Idea Per questo Diciamo Futuro Su questo canale Vabbè Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Condividete il video Con tutti i vostri amici Attivate anche la campanilla E passate per i link In descrizione E andatemi a seguire Su tutti i miei altri social Da me è tutto Ci vediamo in un prossimo video E